Allo Yab Forum presentiamo la nuova versione di Magnews, la nostra piattaforma per l'email marketing. Abbiamo rilasciato in ottobre una nuova suite di statistiche molto approfondita e innovativa. Ad oggi i nostri clienti possono trovare all'interno di Magnews non solo gli indicatori classici del email marketing, ma un potente strumento di marketing intelligence. Sono estremamente convinta che il marketing digitale non sia più un mercato di nicchia, ma una componente determinante del marketing mix. I nostri progettisti spingono sempre in questa direzione e il mercato ci richiede sempre più soluzioni integrate che permettano di analizzare in modo preciso i ritorni degli investimenti, ottimizzandoli sempre di più.